Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. Una dodicenne è morta ieri nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo un intervento di riduzione di una frattura al femore. La ragazzina non si sarebbe più svegliata dopo l'operazione a causa di una ipertermia maligna cioè una febbre molto alta fino ai 44 gradi di temperatura corporea. Sul decesso la procura di Bari ha aperto un'indagine per omicidio colposo al momento a carico di gnoti. Il PM di turno Bruna Manganelli ha delegato i carabinieri per l'acquisizione delle cartelle cliniche e sta valutando la posizione dei medici che hanno avuto in cura la dodicenne. Nei prossimi giorni il magistrato potrebbe procedere all'iscrizione dei sanitari nel registro degli indagati e affiderà l'incarico per l'autopsia. Voltiamo pagina torniamo a parlare dell'ex Socrate nel quartiere San Pasquale le condizioni di vita dei 60 rifugiati politici diventano oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata dal senatore Gaetano Quagliariello. Sentiamo. Il caso dell'ex Socrate diviene oggetto di un'interrogazione parlamentare. Da anni casa di 60 rifugiati politici l'immobile del quartiere San Pasquale attende ancora ad oggi l'applicazione di un protocollo d'intesa siglato tra gli altri tra comune di Bari e Regione Puglia nel 2014 che avrebbe potuto cambiare la vita dei suoi ospiti. Ospiti che vivono in condizioni di degrado in una struttura che letteralmente cade a pezzi. E il senatore Gaetano Quagliariello fondatore del gruppo IDEA Federazione della Libertà annuncia un sopralluogo all'interno della scuola e chiede quali iniziative si intende assumere per garantire l'ordine pubblico e assicurare alla città che queste situazioni non degenerino provocando conseguenze simili a quelle già sperimentate nella capitale. Io ho immediatamente interrogato il ministro su questa situazione perché sono convinto che prevenire è meglio che reprimere e quindi bisogna intervenire in tempo, bisogna intervenire quando le situazioni possono essere recuperate. Non come in questo caso dove abbiamo superato, mi sembra evidente da tutte le testimonianze, i margini di decenza. Questa situazione non aiuta né l'integrazione e tanto bisogna ancora meno la città. Un sequestro preventivo di beni del valore complessivo di oltre 395 mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Bari nei confronti di due professionisti, un commercialista barese e un avvocato di Roma accusati di aver indebitamente ottenuto da Unicredit il pagamento di una parcella nell'ambito del procedimento sul fallimento della società barese di Vania nel quale i due erano stati nominati consulenti dal Tribunale di Bari. L'ipotesi della magistratura barese è che i due abbiano chiesto e ottenuto quel denaro in cambio di una perizia favorevole alla banca. Contestualmente all'esecuzione del sequestro ai due professionisti è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. Si è parlato di pianificazione territoriale questa mattina alla città metropolitana di Bari con i sindaci dei comuni. Ad ascoltare le esigenze degli amministratori locali, l'assessore regionale all'urbanistica Alfonsino Pisicchio. Pianificazione territoriale e politiche abitative. La città metropolitana di Bari diventa sede di confronto. I sindaci dei comuni espongono le criticità di un sistema farraginoso, parlano delle necessità di procedure più snelle per i bandi in scadenza, spesso troppi in contemporanea, e chiedono una proroga su quello attualmente in corso sulla regenerazione urbana e in scadenza il prossimo 29 settembre. Ad ascoltare le rimostranze dei primi cittadini, l'assessore regionale all'urbanistica Alfonsino Pisicchio, nella quinta tappa del suo ciclo di incontri con gli amministratori locali. Presente anche il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio De Caro. Ci sono state richieste che riguardano una maggiore collaborazione tra le istituzioni. Poi il sindaco De Caro ha posto l'accento a un'attenzione da avere con maggior riguardo alla città metropolitana. Ovviamente ho fatto presente che abbiamo in una legge regionale approvato proprio un organismo ad hoc che dovrebbe essere il luogo proprio del confronto tra la regione e la città metropolitana. Io spero che venga attivato immediatamente. Spacca il vetro di un'auto in sosta sul lungomare e ruba una borsa con telefono cellulare ed effetti personali della proprietà PA dell'auto. Poco distante da lui però passeggia un maresciallo dei NAS di Bari che pur libero dal servizio decide di intervenire. Da lì il rocambolesco inseguimento che ha portato all'arresto di un 51enne barese già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato. L'uomo ha tentato di darsi alla fuga salendo sui tetti dei vilini circostanti dove è stato bloccato dal militare. Cambio al vertice al comando scuole della terza regione aerea. La cerimonia questa mattina nell'aeroporto militare di Bari-Palese. Assumerò il comando delle forze operative dell'aeronautica militare. È un grande onore ma soprattutto una grande affascinante sfida professionale. Per il comando inizia un nuovo ciclo perché ogni cambio di comando crea una discontinuità ma nella continuità. Il generale di squadra aerea Fernando Giancotti passa le consegne al generale di squadra Umberto Baldi che assume il comando scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea. Il cambio al vertice con una cerimonia nel quartiere generale l'aeroporto militare di Palese alla presenza del capo di stato maggiore, il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli. Il comando scuole è uno dei comandi di vertice della forza armata per il reclutamento, la formazione, l'addestramento al volo e si avvale delle più moderne metodologie di insegnamento commosse le parole del nuovo comandante Umberto Baldi. È una sfida affascinante perché al di là delle parole di circostanza il personale rappresenta il bene più prezioso di ogni organizzazione, quindi questa è una sfida che continua. Famiglie e città, un cammino comune è il titolo dell'ottava edizione di Notti Sacre, la rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera e spettacolo organizzata dalla Diocesi di Bari Bitonto nel centro storico di Bari. Si parte il prossimo 23 settembre. Sentiamo. Arte, musica e spettacolo nel segno della preghiera. È in rampa di lancio l'ottava edizione della rassegna Notti Sacre organizzata dalla Diocesi di Bari Bitonto. Appuntamento nel centro storico di Bari dal 23 settembre al 1 ottobre. Un'occasione utile per riflettere sul tema famiglie e città, un cammino comune. Argomento di una tavola rotonda il 28 settembre. Queste Notti Sacre aiutano a creare sintesi tra fede, cultura, religiosità e poi sottolineare la centralità della persona. Dice il Concilio Vaticano II che la comunità è per la persona e la persona crea poi gli spazi della comunità. Io mi auguro che questa riflessione aiuti a raccogliere la persona, non l'individuo. La persona è qualcosa che va oltre l'individuo. Nelle chiese del centro storico barese ampio spazio sarà dedicato alla musica con sessioni che coinvolgono importanti compositori del territorio. A introdurre la rassegna il 23 settembre la celebrazione della Santa Messa di Monsignor Francesco Cacucci durante la quale verrà eseguita la messa Regina Celi composta dal maestro Donato Falco. Evento di punta il primo ottobre con l'opera monumentale La Passione secondo Giovanni, diretta da Sabino Manzo e mai eseguita in Puglia. La rassegna coinvolgerà affermate istituzioni del settore come il coro del Teatro Petruzzelli, il Conservatorio e l'Orchestra Sinfonica Baresi. Ma non solo musica, aumenta anche la varietà delle mostre con foto e dipinti anche al Museo Cifico e l'Auditorium Vallisa. Dopo la partenza riminese dello scorso 4 settembre del suo tour Made in Italy, Pala Sport 2017, Luciano Ligabue approda a Bari questa sera al Palaflorio. La data barese recupera quella dello scorso 23 luglio, rinviata come noto per problemi alla corda vocale sinistra del cantautore Emiliano. Per Liga quella del tour è anche un'occasione per lanciare il suo ultimo film, il terzo dopo Radio Freccia e da 0 a 10 Made in Italy, le cui immagini saranno proiettate in anteprima durante ogni concerto. È stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la quarta edizione di Puglia Wellness Festival, l'evento ideato e promosso da IDBio, Accademia Italiana Discipline Bionaturali, che per tre giorni dal 22 al 24 settembre vedrà Bari al centro di una serie di iniziative dedicate al benessere del corpo e della mente. Conferenze, performance, esposizioni, lezioni e dimostrazioni nella location del Fortino Sant'Antonio. L'ingresso è gratuito. Il telegiornale termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it. Ed ora vi lascio al meteo. Amici trevi meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che a livello europeo vedrà l'arrivo dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale, quindi anche da noi tempo in miglioramento con ormai la bassa pressione responsabile del maltempo degli ultimi giorni diretta verso l'Europa orientale. E così come nuvole sull'Italia ben poche, qualche annuvolamento si farà vedere ancora nelle estreme regioni meridionali, ma davvero nuvi di poco conto. Solo di tanto in tanto potranno dar luogo a qualche occasionale piovasco e allora vediamo anche le precipitazioni previste. Sostanzialmente poco o nulla, ma vi dicevo all'estremo sud magari qualche breve acquazione potrebbe anche saltare fuori. Vediamo quindi in definitiva che giornata ci aspetta con tanto sole in gran parte del paese, un pochino di variabilità nelle estreme regioni meridionali, temperature di diurne, tutto sommato accettabili ma non altissime, però attenzione al primo mattino, minime anche al di sotto dei 10 gradi al centro nord. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori